sono un super chef ragazzi sono così occupato posso essere uno chef uno chef no sono troppo occupato ma io voglio essere uno chef senti sai una cosa va bene prendi questo bel grembiule e vai ti insegnerò a fare lo chef ho fame ehi aspetta lì c'è un ristorante voglio mangiare un hamburger diventerò uno chef ok quindi vuoi fare lo chef esatto come ti chiami jason alex ok ora andrai a prendere gli ordini dai clienti ok mi raccomando fai molta attenzione che cosa vuoi voglio ordinare del cibo che posso darti alcune verdure per favore hamburger e una torta perfetto vado e torno devo ordinare che cosa vuole delle verdure un hamburger e una torta ok ok perfetto inizierai dalle verdure siediti pure ok jason prendi le verdure e adesso affettale bene va bene metti tutto dentro ok ora inizierò a cucinare ho quasi finito jason portalo alla cliente sbrigati forza voglio le mie verdure verdure in arrivo oh no oh no le mie verdure oh no portami subito l'hamburger jason perché hai fatto cadere il cibo mi dispiace ok lasciamo perdere dammi un hamburger molto bene oh no credo di averlo bruciato no sta bruciando ho bruciato la carne no ecco jason anche se è bruciato fai l'hamburger se ti va va bene ok è finito lo porto io ok presto presto o arriverai troppo tardi cavolo le piacerà questo hamburger grazie un attimo non ha l'odore giusto l'hamburger ha bruciato cameriere torna qui dica non lo voglio mi dispiace per questo hamburger le è piaciuto no non le è piaciuto per niente oh no facciamo una bella torta ora ok ok cerchiamo di fare una buona torta jason vieni prepara l'impasto forza ok questa volta cucineremo bene wow che bella torta ragazzi portala alla cliente sarà contenta le piacerà tantissimo questa torta grazie mille questa ha un buon profumo proviamola deliziosa allora le è piaciuta? sì batti cinque e vai sono un ottimo set